Grazie a tutti. I ultimi cittadini, quelli che cercano di dare una mano a tutti, alle autorità militari, alle autorità religiose, a cominciare dal signor Cardinale. È molto bello vedere una porpora rossa in questa città, segno dell'attenzione straordinaria che il Papa Francesco riveste nei suoi confronti, eminenza ma anche di questo territorio. E parto proprio di qui, signor Presidente, autorità tutte, perché entrando con il Ministro Alfano, con Angelino, con il quale collaboriamo e condividiamo ormai da due anni e mezzo le responsabilità di governo, Il primo pensiero è stato naturalmente alla bellezza e alla magnificenza dei luoghi che visti dall'alto sono straordinari e che, toccati, assaporati con il ritmo dei passi, sicuramente regalano emozioni ulteriori. Ma io avevo 18 anni quando nel maggio del 1993 un altro Papa, Giovanni Paolo II, se capisco bene dall'altro lato, disse parole che per tutti voi sicuramente ebbero un significato profondo, ma lo ebbero anche per noi. Allora a 18 anni io stavo riflettendo, stavo preparandomi all'esame di maturità, stavo riflettendo su che cosa fare se giurisprudenza o scienze politiche, scelsi giurisprudenza anche per ciò che era avvenuto l'anno prima in questa terra e non soltanto in questa terra. E quelle parole di Papa Giovanni Paolo II segnarono molti di noi, molti della nostra generazione. Il caso volle che di lì a qualche settimana anche la mia città fosse colpita dal stragismo mafioso. Un fiorino, una macchina, un fiorino aveva seminato la morte di un'intera famiglia di un giovane studente accanto agli uffizi, sotto gli uffizi, in via dei Giorgofili. Ma tutto questo per dire come questo luogo abbia un significato profondo, autentico per molti di noi. E perché abbiamo voluto proporvi questo, questo luogo come il luogo della firma, senza nulla togliere alla bellezza di Palermo o all'importanza delle altre città. Lo ha detto bene il signor sindaco di Agrigento nel suo intervento quando ci ha invitato a immaginare cosa potrebbe avvenire da qui al 2020, con l'anniversario tondo della fondazione, se riuscissimo a inseguire e a seguire il progetto del teatro greco così lungamente cercato. Perché questo luogo è un luogo di valori e di civiltà. È un luogo nel quale il messaggio contro la criminalità, contro l'illegalità deve arrivare forte e stentorio, come era ancora stentorio alla voce di quel Papa, ma che poi anche con i gesti ebbe la forza, anche quando le forze fisiche sembravano venire di meno, di continuare a essere testimone di speranza. E così come è stentorio e forte il messaggio di ciascuno di noi in questa fase, nella fase politica che stiamo vivendo. Arrivo rapidissimamente al tema del masterplan e del patto per la Sicilia, ma non posso, essendo alla prima visita in questo luogo, non condividere con voi lo stupore e il senso di meraviglia. Noi purtroppo abbiamo questo difetto, che ci siamo talmente abituati alla bellezza che ormai non ci facciamo più caso. A me capitava spesso nella mia città di camminare intorno e accanto a dei luoghi di suggestivo incanto e però a darli per scontato, come se fossero il naturale set per le nostre passeggiate. In realtà il bello che ci sorprende, il bello che ci circonda, è un bello che aiuta a educarci alla vita in modo diverso. Ecco perché siamo qui oggi. Siamo ad Agrigento per dire che questo tempo nel quale noi viviamo è un tempo che richiede di tenere insieme la forza della nostra storia, la forza dei nostri ideali, ho citato il discorso del Papa e più in generale la testimonianza di tanti che combattono contro l'illegalità, ma anche la voglia di futuro. Ma anche il desiderio profondo di portare questi valori, farsi prendere per mano ed entrare nel domani a testa alta. Per farlo occorre abbandonare la paura. No, forse non bisogna abbandonarla. Occorre affrontare la paura, che è una cosa diversa. La paura è tipica della stagione che stiamo vivendo. È paura in termini di sicurezza. Ne potrebbe essere altrimenti. Non dimentichiamo che in queste ultime settimane e in questi ultimi mesi tanti luoghi della nostra Europa sono stati colpiti. E sono luoghi spesso di quotidianità. Sono un teatro, sono un museo, sono un ristorante, sono uno stadio. La paura quindi è nostra compagna di viaggio, purtroppo. Ma la paura può essere affrontata. Accettando la sfida e non chiudendosi in casa. Accettando la sfida di chi dice volete ucciderci per i nostri valori, bene, noi li difendiamo con ancora più forza. Sono le parole di quel parroco 86enne in Francia che educava comunque al dialogo e al confronto. Sono gli impegni di ciascuno di noi che vede nella forza delle proprie radici un pezzo della scommessa del futuro. C'è una paura economica, che conoscete bene in questo territorio e non solo in questo territorio. Ha ragione il Presidente Crocetta. I dati sono diversi dal passato. Finalmente abbiamo girato la macchina che stava andando contro mano, stava andando in una direzione sbagliata. Sette anni di fila di segno meno. Perdita di posti di lavoro e di competitività allucinante. Noi non abbiamo risolto tutti i problemi. Abbiamo girato la macchina e l'abbiamo rimessa nella direzione giusta. Ma ancora la velocità non è soddisfacente. Ancora andiamo troppo piano rispetto a quello che vogliamo fare. E allora è normale che vi sia paura nelle giovani generazioni. E anche, lasciatemelo dire, nei nonni che sono preoccupati per quello che potrà accadere ai nipoti. Che dicono che loro non staranno meglio, come siamo sempre stati meglio in questi anni. Persino l'innovazione, persino la digitalizzazione, persino gli investimenti sull'intelligenza artificiale e la robotica, di cui tutti parlano e che vedono paradossalmente l'Italia protagonista. Perché siamo forti anche in questo settore. Anche la vostra regione è ricca di intelligenze e di start-up. Vorrei dire soprattutto la vostra regione è ricca di intelligenze da poter condividere a livello nazionale europeo. Però anche questi temi diventano paradossalmente elemento di preoccupazione nelle nuove e nelle generazioni un po' meno nuove. Perché? Perché l'idea è che arriveranno dei nuovi paradigmi economici e taglieranno fuori i posti di lavoro. La paura è un elemento costitutivo del nostro tempo. Io penso, e vado rapidissimamente a terminare, che scegliere di firmare il patto ad Agrigento, nella Valle dei Templi, significa dire che questi 2600 anni di storia non sono qui per caso o come scenografia, ma sono il richiamo a noi stessi di essere capaci di costruire speranza e di costruire sfide per il futuro. Sono il richiamo a noi stessi di non avere paura, di non chiudersi in casa, di non temere la grande sfida della contemporaneità. Per farlo, però, occorre avere il coraggio di un progetto che non sia soltanto un elenco di cose. Ecco perché quando lo scorso anno, nel mese di agosto, è partito un grande dibattito sul Sud, noi abbiamo risposto proponendo il Master Plan. Il Master Plan cosa vuol dire? Vuol dire che noi non vogliamo controllare la Regione, o meglio, noi vogliamo controllare la Regione e vogliamo che la Regione controlli noi. E vogliamo che i sindaci controllino entrambi. Ma vogliamo far sì che l'elenco di cose da fare sia frutto di uno sguardo, di un progetto, di una visione, non sia semplicemente una lista della spesa. Nascono così i 15 patti per il Sud. Io sono felice che oggi vi sia la possibilità di apporre la firma a quello con la Regione siciliana. 5 miliardi e 750 milioni, come ha detto il Presidente Crocetta. Interventi specifici, pronti, puntuali, che devono essere monitorati e controllati. Noi abbiamo lanciato un grande progetto Casa Italia dopo il terremoto. Abbiamo detto facciamo un intervento, un'iniziativa seria, rigorosa, per ripartire dalla banda larga di sesto alle bonifiche, ovviamente agli adeguenti sismici. Ma per farlo bisogna che questi soldi siano spesi per bene, siano spesi in modo trasparente, siano spesi in modo chiaro e controllabile fino all'ultimo centesimo. Questa dimensione del progetto è stata in passato. In passato si sono fatte cose meravigliose, ma l'idea di avere uno sguardo capace di tenere insieme il nostro passato con l'orizzonte è quello che forse mancava. E allora io vi dico in due minuti quello che immaginiamo di fare nei prossimi mesi. Firmati i patti noi controlleremo e ci faremo controllare. E saremo in prima fila perché vi sia un'attenzione straordinaria su questi temi. Accanto a questo il Governo continuerà a fare le cose che deve fare. È inutile andare ad abbracciare i vigili del fuoco come abbiamo fatto noi se poi non diamo loro i mezzi. Oggi d'accordo con il Ministro dell'Interno abbiamo condiviso di trasferire 100 milioni di euro dal fondo di Palazzo Chigi al Dipartimento dei Vigili del Fuoco che è guidato dal Ministro dell'Interno per garantire ai vigili del fuoco che ci hanno stupito, no, perché eravamo abituati, ma ci hanno reso orgogliosi con la loro professionalità, non soltanto i denari per loro con gli 80 euro che già sono stati previsti, ma gli strumenti, ma i mezzi, ma le infrastrutture per intervenire. Quindi noi continueremo a fare la parte di sistema, quella che non si vede, quella che non fa rumore perché non fa rumore una pianta che cresce, fa rumore soltanto l'albero che cade. Ma accanto a questo teniamo alto l'orizzonte delle nostre sfide. Il prossimo anno l'Italia ospiterà i 60 anni dell'Unione Europea a Roma. Noi abbiamo detto basta con l'Europa soltanto delle regole tecnocratiche e burocratiche, con l'Europa che si occupa soltanto di finanza. Ripartiamo dai valori. Abbiamo detto per ogni centesimo che investiremo in sicurezza, nella difesa del nostro territorio, nella cyber security, nella cyber technology, investiamo un euro negli asili nido, nelle scuole, nei teatri di periferia, nei campi sportivi di periferia, perché talvolta le periferie sono molto più nel centro di quello che noi immaginiamo, ma sono lontane dall'attenzione e dallo sguardo di chi si impegna nella cosa pubblica. E lo facciamo annunciando da qui ai prossimi mesi un lavoro costante perché l'Europa si ha valori ideali. Ecco perché firmiamo qui da Grigento il patto con la regione siciliana. Il G7 del prossimo anno si terrà, ahimè, chiedo scusa alla West Coast siciliana, si terrà dall'altra parte della regione, ma è fondamentale che sia in Sicilia non soltanto, mi ha costato perché avevo annunciato che l'avremmo fatto a Firenze, quindi sono stato anche un po' amabilmente rimbrottato dai miei amici e concittadini. Ma anch'io ho sentito quella frase quando sono andato al Parlamento europeo e quando sono andato ad alcuni incontri internazionali. Sicilia? Mafia. E siccome non c'è pietra più dura di un pregiudizio, da rompere, l'idea di far vedere ai potenti di tutto il mondo che la Sicilia è la terra non soltanto delle intelligenze, dello scambio del dialogo culturale, accademico, di ricerca, ma che è innanzitutto la terra della bellezza. La terra nella quale la bellezza si coniuga, da un lato nei monumenti e nelle opere d'arte, e dall'altro nella qualità delle relazioni umane. Nessuno è straniero. Questo obiettivo valeva la pena uno spostamento e valeva la pena la, non provocazione, ma la decisione di svolgere nel maggio del 2017 in Sicilia il G7. Verranno qui i leader dei principali paesi a discutere di che cosa? A discutere di come gli ideali, la cultura, l'educazione saranno cruciali per cambiare il mondo. E infine, davvero, la consapevolezza che si cammina su due fronti. Da un lato il grande orizzonte ideale che va tenuto e accompagnato e dal quale farsi accompagnare, e dall'altro la concretezza dell'azione di governo. Perché se facciamo grandi discorsi e poi non mettiamo a posto le fogne nelle nostre città, e poi non facciamo le bonifiche, e poi continuiamo ad avere una situazione di depurazione indegna, e continuiamo a perdere opportunità ed occasioni, non saremo credibili quando parleremo di educazione, di cultura e di valori. Noi siamo un paese che ha la storia dalla propria parte, ma questa è la mia convinzione, abbiamo anche il futuro. Oggi ho inaugurato la Fiera del Levante, c'era un grande entusiasmo dei nostri amici pugliesi per i numeri del turismo. E sono numeri belli, certo, l'Italia sta andando bene sul turismo. La Sicilia, l'ha detto ora il Presidente Crocetta. Però poi ho tirato fuori un fogliettino, ma l'ero preparato. Ho tirato fuori un fogliettino con i numeri. La Sicilia ha le stesse coste delle Baleari e delle Canarie. È circa il doppio delle coste della Puglia. Eppure accoglie un quinto dei turisti che vanno nelle Baleari o nelle Canarie. Io non ho niente contro le Baleari e contro le Canarie. Ma dico, la qualità culturale, storica, filosofica di questi luoghi, accanto alla bellezza del mare o del paesaggio, come può competere con realtà che sono tecnicamente parlando più brutte delle nostre? Lo fanno perché, non applaudiamo, lo fanno perché queste realtà si sono organizzate meglio e per tempo. E allora, quando io dico che le istituzioni devono essere rese più semplici, più agili, con un progetto chiaro, non sto demagogicamente chiedendo semplicemente di tagliare le poltrone. Sto chiedendo di rendere questo Paese in grado di rispondere alle sfide del nostro tempo. Per tutti questi motivi, mettere una firma e dire questo è il mio impegno, questo è il tuo impegno, e farlo insieme alle autorità, significa prendersi reciprocamente un impegno e guardarsi negli occhi. A voi il compito di controllare, a tutti noi il compito di dimostrare che se è vero che qui c'è la storia, questa deve essere anche la regione del futuro. Viva la Sicilia, viva l'Italia, e pregherei il Presidente della Regione, magari direi per ragioni di casa, il Ministro anche dell'Interno e le autorità, il Sindaco, se vogliono venire, mentre col Presidente firmiamo, dico che Alfano ha minacciato più volte la crisi di governo, ma mai come sulla cattedrale di Agrigento. Poi mi spiegherà a Cardinali Eminenza che cosa è successo, perché è una cosa drammatica. È successo che non avevano il progetto esecutivo, e qui ti dovete fare. Vieni, Genio, vieni qua, vieni Sindaco, venite qua con noi, chi c'è poi? Non ho dovuto fare. Vieni, io devo fare, vieni, Rosario. Ma le penne ce le abbiamo? L'unica cosa... Questa è la penna. No, mettiamo in piedi, mettono in piedi, finiamo insieme, guarda, vi preoccupate. Vieni, come? Vieni, si vieni, perché c'è la seggia per... Ma la seggia... Ah, questa, ah, bene. Sindaco, ce l'hai la seggia? Io mi guardo all'alto. Io mi ero preparato la bicchia di Belinquerra. Guarda, Ale. Claudio, vieni qui, vieni qui, è De Vincenti, che fai? Con tutti i soldi gli hai dato, almeno vieni qui, cioè. Povere i toni, sono i toni aperti, ma non dico mica parolacce. Le lottate che avevo fatto. Vai, mi hanno detto, ci sono i microfoni aperti, ma non dico mica parolacce. Bene, eccoci. Tento, Rosano, ti sto portando via. Grande, vai. Evviva. Senti, però io ho un regalino, ragazzi. Ho un regalino. Noi diamo un regalo a Dario, no? No.